Sostenere le imprese verso l'ultima rivoluzione industriale denominata 4.0 per mettere in rete non solo i produttori ma anche i portatori di interesse a livello globale e di clienti. Confindustria Salerno ha ospitato un dibattito sulle nuove sfide che attendono l'economia campana in particolare e nazionale in generale. Per il presidente Andrea Prete, l'assessore regionale all'attività produttiva Medeo Lepore, l'occasione per tracciare il percorso che attende la campagna di qui ai prossimi anni. La Giunta regionale e il Consiglio regionale hanno già approvato una legge sull'industria 4.0 e l'abbiamo approvata unica regione in Italia prima che il governo emanasse i suoi provvedimenti relativi a questa nuova frontiera della quarta rivoluzione industriale. Ma al tempo stesso siamo intenzionati anche ad aggiungere a queste misure nazionali delle misure regionali e in particolare sull'innovazione tecnologica e sulla capacità delle nostre industrie di dotarsi di nuovi macchinari, di nuove tecnologie avanzate, di quelle abilitanti che introducono appunto alla quarta rivoluzione industriale. Vogliamo fare in sintesi della campagna la terra più avanzata, la regione più avanzata in Italia per quanto riguarda questa nuova rivoluzione industriale? No intermediazioni e quindi sostegno alle imprese con aiuti automatici, penso al credito d'imposta o la decontribuzione per le nuove assunzioni. Secondo me dobbiamo ridurre questo petetto cuneo fiscale che è tra quando l'impresa paga e quando il lavoratore prende netto in tasca.